Ed è arrivato il momento di vendere tutto, via, fuori, facciamo le valigie, ci si vede poi al prossimo ciclo. Ehi, credevi di poter andare via senza salutare? Un tempo vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Abbiamo un bel po' di cose di cui parlare, quindi siediti, mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo. In questo video parleremo di tantissima roba. Parleremo di bitcoin, parleremo degli ETF, parleremo della situazione geopolitica, guerre, le elezioni, parleremo di all season, analizzeremo diversi punti di vista che non ho volutamente affrontato in questi giorni, anzi in queste settimane, perché? Perché c'era FOMO, era tutto un po' nebuloso, man mano che si delineano le cose a me piace andare ad affrontare temi in modo pratico. E soprattutto quando si hanno dei dati in mano, perché senza dati si può dire qualsiasi cosa, si può parlare quanto vogliamo. E non ha alcun senso a mio avviso. Ci sono tantissimi altri colleghi qua che fanno divulgazione, quindi ogni tre secondi pompa, crolla, ogni giorno cambia. Se tu ti vai a guardare i video un giorno deve pompare, un giorno deve crollare. Ecco, io sono molto più con i piedi per terra perché so che questa roba qui è deleteria per gli investitori. Perché se stai ad ascoltare le notizie e oggi pompa e domani crolla e tutto il resto, veramente rischi solo di perdere soldi e basta. Quindi poche notizie ma serie che siano soprattutto verificabili e con dei dati un pochino più certi. Inutile stare lì a raccontarcela per sentito dire perché non ha senso. Noi vogliamo qua analizzare soluzioni, vogliamo entrare nel dettaglio, vogliamo comprendere come muoverci, non fare la telenovela dell'eclitto. Direi di partire dal grafico, direi di partire da bitcoin. Allora, questo è il portafoglio didattico, chi mi segue da un po' lo sa su Bitpanda. Che cos'è sostanzialmente? Ho creato dei portafogli, come puoi vedere qua attualmente siamo a 21.000 dollari e 600 di portafogli didattici. Cosa sono i portafogli didattici? Stefano ha detto ok, prendiamo una cifra da buttare lì in vari portafogli, fare dei test e mostrarli in live. Quindi prenderemo questo portafoglio e negli anni lo porteremo a crescere qua in live, videodocumentando ogni singolo passaggio. Quindi ho creato dei portafogli che mimano quelli che sono i miei portafogli, almeno in parte perché alcuni di questi sono più speculativi, semplicemente perché c'è meno capitale, sui miei portafogli personali ci sono molti più capitali in gioco. Di conseguenza mi muovo in modo diverso. Cosa faccio? Vado semplicemente a speculare molto di più rispetto che ho un portafoglio magari da 60.000. Poi ho messo Uodler, insomma ci sono un po' di portafogli. In particolare, come vedi ce ne sono alcuni con un capitale discreto, più o meno sono tutti intorno ai 4.000 e così circa. Alcuni azionari, alcuni sugli ETF, alcuni sulle cripto e così via. In particolare con i Bitpanda l'ho fatto partire proprio con poco. Cioè sono partito come puoi vedere qua con 348 dollari, adesso siamo a 392 dollari circa, più o meno in, se non vado errato, 2-3 mesi. Perché c'è stato poi il pump, chiaramente non è che sono un mago io della finanza, semplicemente ho scelto delle coin, ho scelto degli asset che stanno andando bene. Sono partito volutamente con poco perché poi mi dicono, eh guarda sto morto di fame che mette 300 dollari nel portafoglio. A me frega niente di quello che pensano le persone anche perché non sanno quanto nel portafoglio personale. Al di là di questo mi interessa che si veda anche con poco che cosa si può fare perché non è necessariamente importante avere chissà quanti capitali dentro per poter far bene. Si può anche fare bene pian piano nel tempo con poco e andare ad accumulare. Torniamo di qua e vediamo cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo in generale sui mercati? Eccolo qui, qui sul portafoglio globale dentro ci ho messo un po' di ETF, un po' di cripto indice in realtà, anziché comprare bitcoin normalmente. Sono andato sul cripto indice perché voglio godermi anche di un potenziale al season, un rialzo delle altcoin e tra poco ne parliamo. Poi ci ho messo le materie prime, ci ho messo i metalli, ci ho messo le azioni, poi questi qui erano degli avanzi che avevo e poi una parte in liquidità. Questa è una parte fondamentale, bisogna sempre avere dei liquidi non investiti che si possono utilizzare per andare a ricomprare a prezzi migliori. Liquidità possibilmente con degli interessi. Ora nel caso di Bitpanda c'è un interesse sulla liquidità se non sbaglio, sì, è l'interesse del 2,59%, non è tantissimo ma schifo non fa. Vediamo un po' come si è comportato bitcoin, vediamo un po' come si è comportato il compartimento azionario. Partiamo dall'azionario perché sappiamo che bitcoin tendenzialmente segue l'azionario. Allora qui in ETF, lato azioni, non ho preso azioni singole se non quelle di MicroStrategy ma di fatto qua che cos'ho? Ho messo un MSI World, è a 1,40%, niente di che, un Emerging Markets meno 1,42%, top US 500, questo è l'SP 500, lo SPI siamo a più 3,93% e poi un NASDAQ 100, 0, meno 0,68%. Quindi attualmente l'SP 500 sta andando bene, in realtà quello che sta facendo è sostanzialmente lateralizzare sul top, come possiamo vedere anche qua. Mettiamo un grafico annuale, no, si capisce meglio così con le linette, ce l'abbiamo qua, siamo più o meno più 34% da inizio anno, cioè nell'ultimo anno, e vediamo che attualmente sta lateralizzando sostanzialmente intorno al suo top, che ci sta, va bene, ed è quello che sta un po' dando spinta a tutto il resto. Torniamo pure al portafoglio, andiamo a vedere, va bene, le azioni, come ho detto ci ho piazzato MicroStrategy, siamo a un più 44-19%, MicroStrategy sta andando to the moon, perché? Perché bitcoin sta andando to the moon, ho fatto un video in cui parlavo nel dettaglio della strategia di Sailor, te lo lascio qua sotto se ti interessa analizzarlo. I metalli, i metalli stanno andando relativamente bene, abbiamo un silver che mi è a un più 24-47%, un gold a più 3%, poi 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 andiamo ragazzi a vedere le materie prime come stanno andando, abbiamo cacao più 14%, l'ho detto bisogna investire in Nesquik, anzi nel gruppo, e se non sei nel gruppo Telegram entra perché ci si scassa, però si condividono anche informazioni importanti, siamo tutti in moon sul cacao, siamo tutti a comprare Nesquik, pacconi di Nesquik da portarsi a casa, cacao mare in polvere, barrettoni di cioccolato perché un giorno salirà di prezzo. No, scherzi a parte, il cacao è andato molto molto bene, ha fatto delle performance incredibili, nell'ultimo anno siamo in più 236%, è andato veramente pesante. Poi cos'altro abbiamo? L'agricoltura in generale sta andando molto bene, energia e petrolio stanno andando bassi, in particolare sul petrolio vedo ricollegandoci alle elezioni di Trump e tutto il resto, vedo del potenziale, ho in portafoglio per esempio Occidental Petroleum, ho un po' di azioni, lato petrolio appunto, e credo che faranno molto bene con quelle che sono le politiche monetarie poi di Trump, ma tra poco ci arriviamo. Torniamo al Bitcoin, abbiamo dato un'occhiata in generale come sta andando il mercato globale, perché è importante comunque andare ad analizzare prima di tutto il mercato, andiamo adesso a vederci come sta andando Bitcoin, eccolo qua. Allora, il nostro Bitcoin attualmente ha stampato nuovi massimi, lo sappiamo, questo è l'ultimo giorno, gli mettiamo gli ultimi sette giorni, eccolo qui. Questi sono gli ultimi sette giorni, vediamo che si lateralizza praticamente sul top, quindi siamo su tra 85 e 90k, siamo qua che ci muoviamo, va bene, anzi in realtà ultimamente ci siamo spostati un po' più su, quindi in quest'area qui, 87, 90k, dobbiamo confermarla, ci dobbiamo tenerla. Tenerla perché? Tenere quest'area ci potrebbe portare finalmente alla nostra alt season. E qui ho iniziato il video dicendo è il momento di vendere, dobbiamo vendere tutto. Dobbiamo fare un discorso. Ho volutamente iniziato così perché in tanti in questi giorni mi stanno scrivendo, chiedendomi cosa fare con i Bitcoin che hanno comprato, perché è facile comprare Bitcoin o qualsiasi altro asset, cioè se tu credi in un asset, man mano che il prezzo scende, compri, fai il buy the dip e ciao, e poi aspetti che torna su, quindi è facile sostanzialmente comprare un asset. Il problema è venderlo. Quando si vende? In ogni strategia ci dovrebbe essere una exit programmata, no? Ci sono diverse linee di pensiero. Allora, se parliamo di Bitcoin ci sono i massimalisti del never sell your Bitcoin, quindi non vendere mai tu Bitcoin, stai lì, tienili e basta. Ci sta. Dall'altra parte abbiamo però anche chi vuole specularci sopra, cioè chi vuole prendere profitto. Generalmente i massimalisti di questo tipo sono quelli che hanno acquistato Bitcoin quando valeva un soldo di cacio e quindi ci sta che mi dicano non vendere mai tu Bitcoin. Perché? Perché tanto sono seduti su una miniera d'oro e anche se scendesse il 70% non tornerà probabilmente a 30 centesimi, a 3 dollari, a 5 dollari, 10 dollari. Quindi che gli frega a loro se sta a 90 o sta a 70, hanno comunque preso un bordello di Bitcoin e quindi chi se ne frega se scende, sale, sto lì, faccio hold e via. Per chi invece è partito magari acquistando a 60k o acquistando a 50, 40 e così via, è importante secondo me analizzare bene il modo in cui si esce dal mercato. Non solo crypto, in generale. Perché dico questo? Perché se no si rischia di rimanere appesi con la liquidità e lo so che succede così. Perché si ha paura di uscire perché andrà ancora più su, poi non si esce, va giù ed esce in perdita. Oppure non esce, rimane intrappolato come quelli che hanno comprato nello scorso ciclo a 60k, hanno aspettato una parte, quando è arrivato a 40k hanno venduto in perdita e si sono dilapidati il conto. Dall'altra parte ci sono quelli che hanno aspettato invece che tornasse a 60k, quindi dopo 4 anni finalmente è tornato a 60k e poi, tac, ha fatto quei 90k, quei 30k in più e hanno preso quel profitto, basta, fine, chiuso. Però non vale la pena stare dentro il mercato per così a lungo e non avere la liquidità per ricomprare a 15, 18, 30k. Secondo me è una stronzata. Quindi quello che penso è, tralasciando tutti i supereroi che vedi su TikTok, su Twitter, su Instagram, tutti sono tutti ricchi, tutti miliardari, tutti che ti sparano. Io sono lì nelle cripto, vai qui, fai lì, sono miliardario, sono qua, never sell, cazzi e mazzi. Quindi lascia perdere. Compartizione. Questa è la cosa importante da fare. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu non saprai mai dove andrà il prezzo. Mai. Non lo so io, non lo sai tu, non lo sa nessun altro. Neanche Warren Buffett sa dove vanno i prezzi. Quello che puoi fare però è gestire in modo furbo il portafoglio. Ti prendi una quota che, a mio avviso, ma questo è a mio avviso, no? Non è un consiglio finanziario, è quello che faccio io. Tu fai le tue dovute analisi e vedila per come chiaramente hai studiato e analizzato tu e in base al tuo portafoglio. Nel mio portafoglio c'è una quota di bitcoin che veramente non vendo mai. Non vendo mai perché credo che questo asset sia un asset destinato a crescere ulteriormente. Quindi non lo vendo. L'ho comprato anche in momenti e a prezzi buoni, quindi non vado a vendermi il mio bitcoin, semplicemente i miei bitcoin. Ho una quota che non vendo, ho dei bitcoin che non vendo, dall'altra parte ho dei bitcoin invece con cui gioco. E in questo periodo ogni tanto vado a scaricare. Come dicevo, il mio target erano i, torniamo nell'annuale, l'avevo già detto, erano gli 80-90k. Questo era il box che mi ero prefissato l'anno scorso. Mi ero prefissato l'anno scorso questo livello qui. Ci siamo arrivati. Chi mi segue da un po' qua sul canale può scriverlo qua sotto nei commenti da quant'è che dico 80-90k. Questo è il target che mi ero prefissato e qui la mia strategia dice vai a dampare. Io qua sto dampando, sto scaricando man mano che ci muoviamo un po' di bitcoin. Che cosa? Sto scaricando una parte di bitcoin che ho comprato a 60, una parte di bitcoin che ho comprato a 50, una parte di bitcoin che ho comprato a 40. Insomma ognuno poi valuta in base a quello che è appunto il proprio portafoglio. Il mio portafoglio c'è un hold di BTC forever and ever e poi una parte di BTC che è quella che io chiamo speculativa con cui gioco, vendo, compro con l'obiettivo poi di riposizionarmi bene. Quindi se voglio investire, se voglio speculare allora devo farlo. Allora vuol dire che quando è il momento di prendere profitto perché sono soddisfatto, lo faccio. Soddisfatto non vuol dire che ora sono contento, vendo. No, vuol dire che ho una strategia e che ho deciso a priori dove e quanto e come vendere. Ma quando? Nel momento in cui ho comprato. Cioè la mia parte speculativa, ripeto non quella di hold, quella di hold è lì, ferma e lì rimane. Quella speculativa, nel momento stesso in cui la compro decido già che target avere per quella quota. Cioè ipotizziamo, io ho comprato 100 dollari a 50k. Ok, che target mi do per questo acquisto? Mi do un target di 60? Di 70? Di 90? Allora cosa faccio? Magari un 20% lo scarico, anzi facciamo più semplice, un 33% lo scarico a 60, un 33% lo scarico a 70 e un 33% lo scarico a 80. Quindi mi sono già andato a costruire il mio scarico. Nel momento stesso in cui l'ho acquistato, ho piazzato gli ordini al limite per andare a scaricarlo. Così funziona. Sulle alt, che cosa faccio? Sulle alt seguo quello che è il ciclo. Le alt, ripeto, per me sono shit, sono cacca. La maggior parte, un 99% sono totalmente inutili, pura speculazione. E quindi che cosa faccio? Speculo e compro basse, vivendo il più alto possibile secondo il mio range. Che non vuol dire devo inseguire il top e devo inseguire il bottom. No, significa che accumulo e poi scarico quando è il momento. Ora, in questa fase, se qualcuno mi scarica qualche altcoin, perché qualche altcoin gli è andata bene, che ne so, mi viene a pensare Cardano, piuttosto che, che sono andate relativamente bene, adesso andiamo anche a vederci su CoinMarketCap, va bene, cioè ci sta. Non è un male, non è un cattivo, stai scaricando prima dell'alt season. No, ognuno fa quello che vuole, cioè ognuno si fa i conti in tasca propri. Ok, questa è la prima cosa importante. Poi, se tu hai delle coin che ti hanno fatto il 50%, ma scaricale, scaricale, fatti il tuo, pigliati il tuo gain, mettiti in tasca un po' di soldi e va bene. Cioè, guarda, a Cardano siamo a un più 31,96%, Tron a un più 25%, Doge, XRP ha fatto, mi fa cagare XRP, però ha fatto molto bene. Ci sta? Vediamo che ci sono delle coin che hanno fatto, cioè Pepe ha fatto 79%, una meme, una shit, e anche qui le meme. Sapete che non sono un fan delle meme, mi fanno cagare, però per fare soldi ci sta. Che cosa faccio? Ho sempre qualche piccola, piccola quota di un Pepe piuttosto che un Doge, che non vuol dire che li mantengo long term, vuol dire che le compro quando le cose vanno male, e poi in questo periodo le vado a scaricare, tipo Pepe ho già scaricato qualcosa. A proposito di meme coin, c'è una promo di Bitpanda, te la mostro così, eccola qua. Se ti registri con il codice che ti lascio qua sotto e investi almeno 25 dollari in cripto, in quello che vuoi, comprati 25 dollari bitcoin, di qualche altcoin, di quello che ti pare, ottieni 400.000 bonk. Giusto quello che dicevamo, qualche meme in portafoglio ci sta, ci sta ancora di più se è gratuita. Quindi ti piazzi 400.000 bonk in portafoglio, visto che sono gratuiti, quelli te li tieni lì e fai un po' come vuoi, prendi profitto quando vuoi prendere profitto. Quindi questa offerta è attiva solo per i nuovi clienti, te la lascio qua sotto, mi raccomando, non perdertela perché può essere utile. Poi Bitpanda è anche un ottimo broker, quindi ci sta, va bene. Bonk è una valuta, è una meme interessante, non è ancora tra le top meme, però vediamo che si sta facendo le sue performance. Siamo negli ultimi sette giorni a un più 105%, quindi vale la pena, secondo me, buttarsela in portafoglio for free, gratis, da tenere lì e vedere come va. Parlando di Bitcoin, passiamo all'altcoin, anzi per concludere, ultima cosa. Che cosa dobbiamo aspettarci su Bitcoin? Allora, gli scenari sono, uno, siamo nel nostro box, quindi 80-90k. Una parte, come ho detto, io l'ho già venduta, l'ho girata su qualche altcoin su cui volevo puntare. Sto attendendo di vedere come va, perché? Perché abbiamo diversi scenari. Il primo scenario, magari con un grafico a candele, questa volta si capisce bene, ok. Allora, questo qui è un triangolo ascendente. Non voglio fare il Paolo Fox della situazione, ma tendenzialmente questa roba qui porta nuovi rialzi, almeno graficamente, che poi, sappiamo tutti che io non sono un fan dell'analisi tecnica, però la utilizzo per capire cosa sta succedendo, almeno nel momento attuale, no? Sul prezzo. Quello che voglio vedere è un Bitcoin che si mantiene sopra gli 85k. Se Bitcoin si mantiene sopra gli 85k, allora, quindi inizio a lateralizzare magari in quest'area, o mi va a colpire nuovi all time I, segue questo, questo no, triangolo ascendente, quello che vogliamo, mi va a colpire nuovi all time I, e ok, quindi nuovi all time I, ok. Lateralizzazione, ok. Queste cose mi vanno benissimo, perché? Perché danno spazio alle altcoin. Danno spazio alle altcoin quando? Quando mi scende la dominance. Ora, se andiamo a vederci la dominance di Bitcoin, siamo attualmente a un 58.97%, un 59%. Ora, per avere una altseason, o almeno un inizio, un accenno di altseason, dobbiamo tenere d'occhio questa, e dobbiamo tenere d'occhio come si sta muovendo Bitcoin. E se Bitcoin mi crollano, quindi mi va a, che cavolo ne so, dov'è qua, mi scende di nuovo sotto gli 85k, quindi mi cede, o mi va a 80k, allora questa roba qui, che per carità può essere un ritracciamento per poi continuare, cioè possiamo dire tutto quello che vogliamo, nessuno sa dove andrà il prezzo, però tendenzialmente un calo sotto gli 85k mi porterebbe le alte a scendere. Una situazione invece laterale su quest'area, o nuovi all time I, al netto però di una dominance che dal 58-59 attuale mi scende su un 54-55%, allora è il segno che sta ruotando un po', si sta spostando un po' di liquidità da Bitcoin verso le alte, e quindi si lascia un po' di spazio per avere almeno una mini altseason, un inizio di altseason. Certo che se mi va al 50%, ok, allora iniziamo a divertirci, rimanendo su queste aree qua, o scendendo in quel caso sì, magari andare a toccare anche gli 85k. Questa per me è stata l'ultima onda impulsiva ora, che non vuol dire, ripeto, che vada giù a 70k, via, morti tutti, e ci vediamo nel prossimo ciclo. Vuol dire che probabilmente inizierà a rallentare in quest'area, o magari stampa altre volte mai, abbiamo detto, va bene, fighissimo, sono contento. Vediamo però appunto lato al season, ora sappiamo che cosa serve affinché venga innescata sta benedetta al season, diamo un'occhiata che cosa sta performando. Allora, negli ultimi sette giorni Bitcoin siamo su un 14% al season e quando vediamo qui che le performance sono molto superiori rispetto a quelle di Bitcoin. Ora, in questo caso su Ethereum abbiamo uno 0,84 in negativo, cioè Ethereum sta facendo cagare in questo momento, ma potrebbe starci, ora diamo un'occhiata anche agli ETF. Tether è sempre Tether, lasciamolo lì. Solana ha fatto bene, in realtà ha fatto un 17,38% rispetto Bitcoin, siamo più o meno lì, quindi ha fatto più o meno come Bitcoin. BNB sta facendo abbastanza schifo, ma ha fatto bene nel momento precedente. Qui XRP siamo un più 100% quasi, con la notizia di Gary Gensler che probabilmente si leverà dalle palle dalla SEC, XRP è iniziato ad andare a To The Moon. Ora, io non sono un fan di XRP, però notizie di questo tipo chiaramente danno una spinta e ci sta il Doge, più 30%, con la storia di Elon Musk, il dipartimento chiamato Doge, tutte queste robe qua, figuriamoci se non andava un po' To The Moon. Cardano, Cardano sta facendo molto bene, ha fatto un più 30,73%, non so se c'è il mensile, andiamo a metterci anche un mensile così da avere un'idea, perché ha fatto veramente molto molto bene Cardano. Allora, nel mensile che è qua, siamo su un Cardano con un 121%, infatti su Cardano mi sto divertendo molto, poi abbiamo Tron, più 25%, quindi stando bene rispetto a Bitcoin, siamo a un più 32 negli ultimi 30 giorni, Avalanche più 13 sta seguendo Bitcoin, Ton si sta un pochino riprendendo, ma sta seguendo sostanzialmente Bitcoin, anzi un pochino più debole, Sui, Sui sta andando molto molto bene, 18,23%, più 86,44%, vedo in questo periodo molto forti le, tra virgolette, Ethereum Killer o Solana Killer, chiamiamole come vogliamo, cioè Solana se la sta cavando bene, Sui se la sta cavando bene, perché dall'altra parte TH insomma sta facendo un po' cagare, Pepe sta andando relativamente bene, un po' di Moon, per quello serve sempre qualche meme buttata lì in portafoglio, DOT vediamo che ci combina, speriamo faccia qualcosa di interessante, comunque per ora sta seguendo Bitcoin, questa non la conosco, Near sta andando benino, sta seguendo Bitcoin, Stellar è to the Moon, Stellar è un'altra di quelle coin particolari, segue moltissimo XRP, cioè quando XRP va su, non so perché Stellar va su, e viceversa quando va giù, non ho idea, Bitcoin sta facendo più o meno come Bitcoin, qua Uni anche sta andando benino, ma sta seguendo comunque sempre Bitcoin, CRO, CRO sta andando molto molto bene, ha fatto un più 36% negli ultimi 7 giorni, più 141% negli ultimi 30 giorni, perché sono uscite un po' di notizie su Crypto.com, pare voglia diventare una sorta di neobanca, robe strane, e quindi questo ha mandato un po', ha spinto chiaramente un po' la valuta, mi può essere molto interessante. Internet Computer è la solita, Caspa sta seguendo relativamente Bitcoin, ma ha fatto comunque in questo ciclo, in questo bull, ha fatto molto molto bene, poi Edera siamo così, ETC sta andando meglio Ethereum Classic, che è Ethereum normale, questo è buffo, gioverà probabilmente del calo di Ethereum, Bonk siamo in più 122%, Mantra 183, 200% ultimamente, Home, insomma questo è un po' il tutto, cioè ci sta, vediamo che ci sono già delle alt che stanno spingendo, come dico scaricare qualche alt male non fa, dipende poi da ognuno come ci si vuole posizionare, però scaricare qualche alt qua e là potrebbe anche andar bene, ma come stai alla vigilia dell'alt season mi dici questo, ripeto siamo qui per fare soldi, nessuno sa effettivamente dove, quando, come ci saranno, verificheranno le cose, quindi se vuoi prenderti qualche profitto, perché delle conti hanno fatto il più 100%, fallo, cioè non aspettare il 10% per mille per, inizia a portarti un po' di liquidità in cassa, anche perché, se proprio vogliamo dirla, vedere i big che si stanno portando liquidità in cassa, qualcosa mi fa pensare, vero che noi siamo i più fighi, i più furbi, perché noi compriamo bitcoin, compriamo le cripto, noi nessuno ci batte, però vedere un Buffett che riempie il portafoglio di liquidità, come se non ci fosse un domani, e la maggior parte di altri big investitori, insomma, forse fiutano qualcosa, che noi poveri degenerati sul mondo cripto, forse non abbiamo ancora fiutato. Diamo un'occhiata anche magari agli ETF, come stanno andando, lato bitcoin, siamo più o meno sempre nella media, c'è stato qualche scarico, soprattutto il 14 e il 15, da parte degli altri, rispetto BlackRock, su BlackRock c'è ancora qualche accumulo, però tendenzialmente queste robe qui non mi spaventano, non andare in panico, perché ci sta che uno prenda profitto, loro sanno come funziona, cioè ci vanno a prendere profitto ogni tanto, sia, è vero che accumulano bitcoin sul lungo termine, però scaricano anche quando c'è da scaricare qualcosa, per parcheggiare liquidità, per riaccumulare a prezzi più bassi, e questo devo dire una cosa molto importante, stiamo parlando di una situazione un po' delicata, elezioni, ne abbiamo parlato, ok, Trump ha vinto, si insedierà adesso a gennaio, nel frattempo c'è Biden, quindi se Biden non ci fa crepare tutti, perché si infila di nuovo in mezzo a situazioni russa, ucraina e altre robe varie, quindi se non crepiamo prima tutti, perché qualcuno sgancia qualche nucleare, tendenzialmente le cose andranno più o meno come stanno andando adesso, secondo me lato finanziario, e si arriverà poi a gennaio, e vedremo cosa succederà. Due scenari, il primo la recessione, il secondo si continua a fare come si è sempre fatto, si stampa e si mantiene sulla baracca. In caso di recessione, come secondo me arriverà invece in Europa, perché l'Europa si sta tirando una zappata sui piedi senza precedenti, ma basta anche solo vedere Euro-Dollaro come sta andando, si stanno chiudendo molto qui in Europa con il Mika a il mondo cripto, tutto il compartimento tecnologico che viene fuori dal mondo cripto, stablecoin e tutta sta roba qui. In Italia non ne parliamo, stiamo ancora lì a pensare a quanto tassare bitcoin, 42% qui e lì, cioè lasciam proprio perdere questo, noi saremo il terzo mondo dell'Europa tra un po', e non scherzo. In America si parla di inserire bitcoin nel tesoretto, chiamiamolo così americano, copertura del debito, tutta una serie di belle cose. Allora, se effettivamente verranno mantenute e da come ci si sta posizionando, soprattutto con il, no, l'accoppiata che secondo me è l'accoppiata vincente, Elon con Trump, secondo me ne vedremo delle belle. se effettivamente, se effettivamente ci si posizionerà su bitcoin, come è stato detto almeno da loro, da Trump, a tutti i vari comizi, non è solo stata una roba per acchiappare nuovi voti, se effettivamente si fa una roba del genere, secondo me c'è tutto l'interesse per farlo, perché non sono stupidi. Trump è un uomo di business, Elon è un uomo di business, quindi si fanno i conti in tasca, non sono il politico all'italiana che fa politica, punto, fine, chiuso, cioè fa il politico, il suo lavoro è il politico, no, sono persone che arrivano dal mondo della finanza, in un certo senso, del business, e hanno un'idea di come farsi i conti in tasca, questo, a mio avviso, potrebbe giocare un buon ruolo sull'intero mercato, non solo il mondo cripto. L'idea di Trump, quella che ha portato avanti durante la campagna elettorale, per intenderci, beh, la sua idea è quella di potenziare di fatto il dollaro, è vero, aumenta il debito pubblico, perché vuole abbassare le tasse alle imprese, però è anche vero che ridurre le tasse alle imprese significa spingere il settore delle imprese a crescere, chiudere rispetto alla Cina, o almeno inserire dei dazi per chi importa dalla Cina, implica che si inizierà a consumare molto di più in America, e questo potrebbe, a mio avviso, portare a un rinforzo di tutto il compartimento di sviluppo tecnologico, quello che vogliamo, interno, americano, con un conseguente rafforzamento del dollaro, che abbiamo visto svalutarsi e perdere forza rispetto il resto del mondo. D'altra parte c'è il debito, sì, ci sarà stampaggio di denaro, tutte queste belle cose, d'accordo, ma, se si inserisce Bitcoin, probabilmente si potrebbe riassorbire una parte di questo debito. Quindi, secondo me, l'idea ci sta, almeno su carta ci sta. Ora, la domanda è cosa significherà questo per noi? Beh, per noi, se si posizionasse veramente Bitcoin, come, fammi dire, una sorta di riserva negli USA, che è il più grande mercato attualmente al mondo, a livello capitali, beh, allora li stiamo parlando di un qualcosa di molto molto interessante. Probabilmente la ciclica verrà meno, probabilmente tutti gli scenari che abbiamo visto noi fino adesso su Bitcoin, e tante altre cose verranno meno, perché si parlerebbe di un'evoluzione, un'evoluzione senza precedenti. Dove arriverà il prezzo di Bitcoin? Bella domanda, ma non mi vado a curare neanche troppo di quello, mi vado a curare più che altro dell'importanza strategica che avrà Bitcoin. Ed ecco perché, come dico sempre, una quota, un portafoglio di Bitcoin, meglio tenerla. Le alt, divertiti quanto vuoi, vendi, spacca tutto, vendi, butta via tutto, compra, cioè diverti, diverti, fai quello che ti pare. Però Bitcoin, una quota, è sempre bene tenerla, secondo me. Queste sono le mie analisi, tu fai le tue, e poi valuta. Io nel mio portafoglio, un paio di Bitcoin, ce li tengo sempre. Al netto di escalation particolari, verso fine anno, potremo iniziare a intuire come andrà il prossimo anno. Perché se abbiamo un prossimo anno, probabilmente vicino ad una recessione, beh, allora in questo caso, probabilmente non vedremo Bitcoin fare nuovi all time I, almeno per ora, se ne riparla magari fine 2025, ma vedremo magari del ritracciamento, e lì potrebbe essere interessante andare a posizionarsi. Ricordiamo anche una cosa, che Bitcoin, man mano che cresce, man mano che aumenta la sua capitalizzazione, è vero che crescerà esponenzialmente meno, però anche è vero che crollerà meno. Magari i cali dell'80-90%, potremmo non vederli. Ecco perché quello che faccio io, per esempio, è tutti i Bitcoin, che ho accumulato sotto i 50k, attualmente, non ho intenzione di venderli. Tutto quello che ho ripreso poi sopra, con cui ho speculato sostanzialmente, 60-70, perché chi mi segue sul canale sa, ho un piano d'accumulo che porto avanti, anche durante il bull market, e che vado chiaramente a utilizzare per incassare liquidità, tutta la parte sopra, l'eccedenza, quindi sopra i 50k, io quella parte lì la vado a, come speculazione, a vendere. Pian piano, a scaglioni, quando sono soddisfatto, ok, tutto ciò che sta sotto, tendenzialmente non vado a venderlo. Perché? Perché mi aspetto che un calo possibile di Bitcoin possa stare, quest'anno, in questo nuovo bear, ripeto, al netto di escalation, di guerra, o cose strane, possa stare intorno massimo a un 60%. Un 60% di calo, significa, semplifichiamo i conti, fai un 50% da un Bitcoin, che è sui 100k, potrebbe portarti a un 50k. Un Bitcoin che invece ha 90k, ti porta il 50%, fai il conto, ti porta un pochino meno. Però tutto ciò che sta sotto i 30k, secondo me i 30k sarà un livello che non vedremo più su Bitcoin. Quindi tutta sta roba qui, accumulata sotto, ce l'ho lì in portafoglia, quello è il mio hold, che non vendo. ho là dentro le quote che ho acquistato, a 15, a 18, a 20, 25, 30, 30 è l'ultimo, che tengo proprio lì, hold, 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 e quindi il mio paio di Bitcoin, che stanno lì tranquilli, ce li ho. Ho poi una quota, che è più o meno qua, quindi tra i 30, in realtà 35, 40, 45, 50, quindi in questo intermezzo, e qui là sono lì, una parte, la sto tenendo, quindi le parti sotto i 35, le parti sopra, sono lì in attesa, di essere magari dampate, queste qua, già qualcosa, le sto dampando, come ho detto, in area 80, 90, io ho iniziato a scaricare, e girare qualcosa in altcoin, per prepararmi l'altseason, e tendenzialmente, questo è il come mi sto muovendo, in questa fase. Che cosa aspetto? Cosa aspetto? Aspetto di vedere, come andranno le cose, perché è inutile buttarsi lì, a capo fitto, e andare all in, perché Bitcoin farà i 100k, a to the moon, e tutto quello che vogliamo. No, tappiamoci le orecchie, non ascoltiamo quello che viene detto fuori, analizziamo, analizziamo, cosa sta succedendo, non cosa viene detto, cosa sta succedendo, analizziamo il nostro portafoglio, analizziamo come ci siamo posizionati, cerchiamo di affinare la nostra strategia, la mia strategia è semplice, accumulo, quando i prezzi crollano, quando le persone non lo guardano, quando le persone dicono, no non compro perché scenderà ancora, io a 15k ho comprato, io a 18k ho ricomprato, perché, perché non mi interessa, quanto potrà scendere ancora, se credi in un asset, nel senso che secondo te, i suoi fondamentali hanno senso, quando è scontato, lo compri, per fare soldi sui mercati, bisogna imparare a posizionarsi, tendenzialmente al contrario della massa, ma cosa vuol dire, perché questa roba qui viene fraintesa, ma viene veramente fraintesa, perché la maggior parte di persone pensa, oh guarda, il prezzo sta salendo, vado short, il prezzo sta scendendo, vado long, non è questo, non è questo, non significa, per posizionarsi, fare più soldi degli altri, andare al contrario, non significa che se le persone vanno long, tu vai short, no, significa che se le persone stanno andando long, tu non entri, tu aspetti, aspetti che le persone vadano short, e quindi che il mercato crolli, per posizionarti al contrario, cioè comprare quello che devi fare, quello che devi imparare a fare, ed è secondo me il suggerimento più interessante, che si possa avere nel mercato di investimenti, e quello che personalmente mi ha aiutato, penso in assoluto più di tutti gli altri suggerimenti, è proprio quello di imparare a studiare da sé, comprendere che per come siamo costruiti noi anatomicamente, a livello filosofico, a livello emotivo, quello che vuoi, non siamo fatti per investire, perché andiamo al contrario, perché ci facciamo prendere dalle emozioni, siamo esseri emotivi, quindi bisogna costruire delle strategie, e seguirle come degli automi. Direi che per questo video è tutto, ho parlato quasi un'ora, però ci tenevo a fare un recap, un po' più importante, tutta la situazione, e passarti quello che sto facendo, come mi sto muovendo, ti lascio sotto il link di Bitpanda, se non ti sei ancora registrato, ti prendi un po' di bonk che ti regalano, e ti ritieni lì, vediamo un po' come andranno, vediamo un po' quando ci sarà questa season, se ci sarà, come, in che modo, quanto forte, insomma, chi vivrà, vedrà, come si dice, ti lascio qua sotto anche il link del mio canale Telegram, entra lì perché comunichiamo di continuo, e quindi abbiamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché fare un video ci vuole tempo, però mandare un messaggio, guardate che è uscita questa notizia, oppure, vedo la dominance che è crollata, siamo sul 54, prepariamoci, partirà un al season, è molto più facile, è molto più veloce, ti ringrazio per essere stato qui con me, iscritti al canale se ancora non l'hai fatto, per rimanere sempre aggiornato e sul pezzo, questa settimana ci saranno un po' di video interessanti, parleremo di prestiti, parleremo di nuovo di un po' di temi carini, che vale la pena secondo me conoscere molto molto bene, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.